Grazie a tutti per mostrarvi la parte 2 di Pi Archinit, perché stavamo a CAA di Southampton e ora presentiamo la notizia di Pi Archinit. Questi sono i migliori sviluppatori, io e Fococca, Roberto Montagnetti e Paolo Rosati, siamo ricercatori indipendenti, ho una società, sono linkato a l'academia. Pi Archinit è un plug-in archeologico da software QuantumGIS, sviluppato nel 2005, è nato per l'escavazione archeologica e iniziando dal 2010, è stato estenduto a l'academia, da provare l'analisi e i dati collezionati. Questo è l'ambiente del lavoro di Pi Archinit. L'idea è molto semplice, solo una soluzione, non troppo troppo software per usare, per gestire i dati archeologici. Quindi abbiamo un'alphalumerica datasy, un'alphalumerica dataseto, sono tutti insieme alla delle dimensioni spaziali db, Questa è una questione particolare dentro del Geodb, quindi potete vedere la nostra form, la nostra stratigrafica di unità, una mappa, questo è il risultato della piearchinite elaborazione. Abbiamo testato la piearchinite sotto molte situazioni, archeologica urbana, archeologica funeraria, archeologica rurale e archeologica prehistorica in cave. La ricerca è molto semplice, un software, un linguaggio di programma e un Geodb, Postgres per il globale, ho un servizio nel mio ofizio, usato da tutte le persone che lavorano con me. Questa è una luce spaziale per usare dentro del singolo PC. Ok, con il tutto insieme, otteniamo la piearchinite. La piearchinite permetà di lavorare interattivamente a molti ambienti. Puoi usare l'alphanumeric sheet, control routine, media management, pdf output e il time management. Ok, abbiamo una matrice, una matrice, una matrice, questa è una matrice, mio nome è Mandolese, in matrice. Ok, la data di geodb è un'alphanumerica, con i dati sono un'alphanumerica, con i dati sono un'alphanumerica, e per acquistare il database è possibile di spiegare la matrice in QGIS. Quindi ogni quere che facciamo dentro le form, sarà spiegato come una matrice. Non c'è un limite per le vostre quere. Ok, ogni cosa che facciamo, ogni cosa sarà spiegato come una matrice. Il piearchinite cerca di introdurre in QGIS il fattore del tempo. Con un scritto esperimentale, abbiamo creato un indice specifico per gestire la posizione di ogni geometria nella dimensione temporale, indipendentemente dalla elevazione. Ok, cambiando la relazione stratigrafica, il piearchinite trova sul GIS la unità stratigrafica in un ordine diverso. Ok, non è il utilizzo che decide dove posiziona la unità stratigrafica, è il piearchinite basato sulla relazione stratigrafica. Il piearchinite permettono di creare ogni futuro da un timegrafo. Abbiamo una matrice semplice della stratigrafica. Un clicco sulla matrice, crea il futuro sul GIS. Puoi controllare la vostra stratigrafica usando direttamente la matrice. O per una semplice timegra, realizziamo che questa semplice, girando la via o la via, puoi andare avanti o tornando in tempo. i GIS girano interattamente la unità stratigrafica girando la via o la via. Tutti basati sulle relazioni stratigrafiche. A fine dei nostri lavoro, potremmo avere un output, un formato di formato di PDF dei nostri mappi, poi un record di PDF. Abbiamo realizzato un nuovo menu tool bar per lavorare in, un modo di connessione esperimentale o un modo di connessione stabile. Questo per aiutare gli iniziati perché abbiamo sempre molti bug quando rilassiamo il plug-in. Abbiamo un piccolo menu con una funzione stabile e un menu esperimentale con più, ma più, funzioni esperimentali. Le form sono gruppi in team per avere un design compacto questo è solo un grafico. Da form di sito, potremmo montare i futuri o montare i futuri di tutti i siti. Potremmo che le persone che lavorano con noi non sapranno come funziona una G.O.D.P. bisogna funzionare direttamente. Abbiamo solo un pulsante un pulsante un pulsante un pulsante un pulsante e abbiamo tutti i G.O.D.B. che funziona direttamente. Questo è il gestione della seczione stratografica e dell'elevazione architettonica da form di documentazione. di form. Abbiamo usato in una forma non corretta la G.I.S. Ok? Abbiamo usato l'autocad ok? Questo non è corretto ma funziona ma funziona questo è sviluppato da Enzo Kocka per i suoi studi ora proviamo di passare le dati da PyArchinate a Blender per avere una visualizzazione 3D c'è un nuovo addon di Dom Leeds ok? troviamo un po' zeta della fase archeologica realizzato da PyArchinate la planta sono in 2014 in 2014 abbiamo iniziato con alcuni eventi chiamati una Quantum con l'archeologica interessata con il progetto può inserire sulle lezioni o assiste a una mini-lessione sull'uso del plug-in. Since 2015, Una Quantum Inch è anche un'associazione per il sviluppo di soluzioni software per l'archeologia. Facciamo molti metodi, Tivoli, Roma, Tadernelli, Valdipesa, near Florence, Rimini, Emilia Romagna. Siamo sul web, con alcuni siti, un blog, il sito principale, e anche il tubo di pelle, dove puoi mettere i problemi. Questo è il limite di pionicinità in italiano, ma noi capiamo l'inglese. Ora ci proviamo per tradurlo in inglese. Ma ancora, questo anno ero l'unico sviluppo di sviluppo. ora siamo 4-5 sviluppi che possono aiutare. Questa è una mappa di questo sito, dove usiamo Faiak in Ita, in Italia, Sudan, Iran. e grazie a tutti. Stay tuned. Thank you very much. Grazie. 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 Grazie.